Ciao a tutti amici di YouTube, io sono Fabio ed oggi andiamo a vedere come scaricare le precedenti versioni del famoso software di video editing Camtasia. Allora, siccome ho cambiato recentemente il PC ho dovuto reinstallarlo naturalmente, ma provando la versione 2018, ovvero l'ultima rilasciata poche settimane fa, ho avuto vari problemi sull'installazione e infine sul rendering. Per questo ho cercato una soluzione di scaricare delle versioni precedenti, magari la penultima versione, ovvero la 9.1.2 rilasciata a fine marzo di quest'anno, in maniera da utilizzarlo correttamente sul mio PC. Andando su internet e cercando vari siti, magari di terze parti, non ho potuto trovare il risultato ottenuto. Allora, proprio nel sito ufficiale della TechSmith, ovvero quello che pubblica e produce Camtasia, ho trovato una pagina inerente al download di tutte le versioni arretrate dei suoi software, fra cui Camtasia. Vi lascio naturalmente il link in descrizione, voi dovrete andare a scegliere il tipo di prodotto per cui scaricare la versione a propria scelta, in questo caso Camtasia per Windows, e infine scegliamo il numero della versione da scaricare. In questo caso vi consiglio pienamente la 9.1.2, come detto in precedenza. Bene, per questo è tutto, spero che questo video possa essere utile per chi appunto ha avuto dei problemi con l'ultima release di questo software, visto che in tanti mi avete esposto questo problema. E quindi spero che questo vi possa servire e noi ci vediamo ad un prossimo video. Grazie a tutti.